Fate F5 un po', adesso dovrebbe essere super cool Allora adesso vi devo dire ragazzi se mi sentite bene Allora qui c'è stato un problema perché non ci sono le istruzioni per montare sta cosa E ci sono maggiore dei pezzi XD X... ah X fucking D Ragazzi qui c'è stato un problema Eppure è bello grave Non ci sono le istruzioni Eh non è, non è la scommata del merda È tipo, guarda, vi ricordate che tempo fa Ma se era, guarda Vedete qua? Questa è la gomma americana Praticamente il cane mio, il cane mio Va bene, è sporco del merda Vabbè sti cazzi Il cane mio, l'aveva Presa dal cestino l'animo della sedia Io mi ci sono seduto E praticamente Mi è rimasto appiccicato al culo Con sto pigiando Ma qui c'è un problema Non ci sono le istruzioni Porco Ma come faccio le istruzioni? What? Ma Ma questa è la bomboletta del gas? Questa? Qua È tutta Oh è quella che va sotto la sedia Che la spinge in su Mannaggia la puttana Oh Voglio essere 80 euro Che mi devo montare da solo Ma tu mi dici Non ci sono le istruzioni Queste qua Senza istruzioni Me le metto in culo? Che ci devo fare con queste Senza istruzioni? Che cazzo Cercare su internet Ma se non te io sono uno che Cerca su internet Mette Mo' ti faccio vedere io Ma che è? Ah è quella qua GK L'ho trovata Credo No forse non proprio Non so Ma 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 non è troppo grosso Cioè in realtà non l'ho trovata So C'è una sorta Diciamo Una sorta Allora Allora Uno Prendere Questo E Mi sono perso un pezzo Ma mi sono perso un pezzo Lo cazzo l'ho messo sto pezzo qua Rita Ok Ah no lo devo montare io No c'è che Lo cazzo sta Ma il cazzo sei montato No mi sono perso un pezzo Questo non è il pezzo Questa non è la ruota Credo Lo cazzo sta E questo va dietro la sedia C'è dietro Questo Ma come è possibile Stavo Ah no ecco qua Ho visto qua Eccolo Mi ricordavo Abbiate pazienza Abbiate pazienza No facciamo tutto Non bestemmiare Sante acquisizioni Tre mesi delle sub Grazie tanta Sante acquisizioni Nelle sub Eri benvenuto Nelle gagne di cane Allora Calma Ci siamo ragazzi Dai qui go Allora Credo di avere dei problemi mentali Ho decisamente dei problemi mentali Allora Già mi sono rotto il cazzo Sinceramente Ma siete bene? Ok Stendiamole tutte Spero del più ciò di esatti Perché Ah ho sbagliato Ammontato Non te te l'ha Ecco Mannaccia Quella puttana Che non leggo le cose Maledetto io Maledetto Ok Il primo pezzo E' andato Nuovo Montiamo Il primo pezzo Ma che trattempo Non ce l'ho più la panza Qua Non lo sta Non lo sta la panza E ho Una stupenda nel culo Aspetta un po' Dobbiamo montare tutte le cose In un po' di Dobbiamo montare tutte le Le Mannaggia La puttana Mannaggia La puttana Oh sembra una cazzata Ma come cazzo Scusate Regà No Aiutatemi voi Sì io ho sta cosa qua Guarda La vedere questa Questo qua Ok Io qui dentro Ci do metto sta rotellina Però se faccio così Cade qua Oddio Mannaggia La puttana Stessa Allora Tu mi devi dire Come cazzo faccio Non capisco Sto mettendo le ruote dentro Non vanno Non vanno Non vanno Adesso mi potrei mettere pure la forza Di tutto il mondo Ma le spamore Non c'è senso E di questa è scena Oh ma me ne vedevano del culo eh Guarda 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 Più di così non entra Ehi Più di così non entra Guarda E tu dici così va bene Ma se io faccio così Eh cade Quindi non va bene Non capisco Ah Serviamo un po' di forza La sapete qual è la cosa più bella dopo aver montato le cose Qual è rompere lo scatolone Spero che non sia l'unico che lo faccia Ok Ma ragazzi Aspettatevi un attimo Questo è importante Lì sta in un attimo Come cazzo lo mette Lo schienale Ed è Non so se metterlo del lato E qua però in teoria dovrebbe essere di qua Però non ne ho sicuro Reggi lo schienale con le mani Te lo lega da schiena e ti siedi Ma il mio cuore sta dentro alcuno Schienale Allora Aspetta un po' Allora Se questo va a farsi un basso Poverci l'età Un po' così Mannaggia di quella puttana Che Dio mi accolga In facce del suo regno Allora qui c'è stato scritto front Quindi in teoria dovrebbe essere così Quindi ho contato male Perfetto Montato male da sedia XD Ok raga Preghiamo Dio Preghiamo Dio for sure Che ho lo schienale Che ho lo schienale non è andato bene Perché se non lo è andato bene So cazzi Houston Houston Me sa che abbiamo un cazzo di problema E' entrato E' entrato Del supporto Adesso 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 è il momento di giocare un po' Allora Ma il fight è contro Dovebbe essere Non sia facile La linea I'm clean bro I'm so fucking clean bro I'm so fucking clean bro E' la sedia E' la sedia Cazzo E' la sedia Let's go Hai visto Zio Peppe La sedia Appunto esclamativo Cerinciate Mi te la consiglio E' comoda Sicuramente meglio di quell'altra Quindi secondo me è anche una sedia Normalissima Presa a 2 euro Dal bangladino Per dirti Mi sarebbe andata comoda Quindi non Non ti so da un parere Però Comoda Si